Brividi di freddo, Maria Carrassi. Brividi di freddo sul mio corpo. Eppure sono nel mio letto caldo. Mentre dormivo qualcuno mi ha chiamata, ed in agitazione mi sono svegliata. Accanto a me nessuno. Chi sei? Chi mi chiama? E voce vera o solo desiderio del mio cuore? Chi sei? Dimmi, se quel che penso è vero. Dimmi se ti manco. E ai giorni andati tu pensi con malinconia. Dimmi se stai soffrendo. E se è così, vinci l'orgoglio. Segui il tuo cuore. Tutto si supera se c'è l'amore. Commento. Questo sogno, con brividi di freddo, ha tutte le caratteristiche di un sogno astrale.